omelia santissima trinità anno b andate dunque fate discepoli tutti i popoli quando san patrizio evangelizzò l'irlanda volendo spiegare il mistero della santissima trinità si servì di un piccolo esempio prese fra le mani un trifoglio e disse che come quelle tre foglie formavano un'unica piantina così le tre persone il padre il figlio e lo spirito santo formano un unico dio l'esempio riuscì allo scopo la folla che ascoltava abbracciò la fede cristiana ed allora anche in tempi recenti il giorno di san patrizio gli irlandesi attaccano al vestito un mazzolino di trifoglio in memoria della loro conversione in onore del santo che li ha evangelizzati il mistero della trinità celebrato in questa prima domenica dopo pentecoste è il primo mistero della fede cristiana il più importante e il meno accessibile all'intelligenza umana vi si possono solo cogliere dei palli di riflessi nella creazione la quale essendo opera di dio reca in se stessa l'impronta del suo creatore per questo motivo l'intelligenza umana non può arrivare a comprendere questo mistero ma capisce che tale mistero pur superando l'umana comprensione non è contro la ragione comprende inoltre che le similitudini che troviamo nell'opera della creazione confermano il nostro atto di fede la ragione umana non sarebbe mai riuscita a conoscere che dio è in tre persone uguali e distinte questa verità la sappiamo solo perché gesù ce l'ha rivelata la frase della scrittura che maggiormente ci fa comprendere questo mistero e l'affermazione di san giovanni evangelista dio è amore punto in questa piccola frase era chiuso tutto il mistero di dio uno e trino dio è trino in tre persone proprio perché è amore quando parliamo di amore si parla sempre di una comunione di persone la persona che ama la persona amata e l'amore reciproco il padre ama il figlio il figlio ama il padre e l'amore reciproco tra il padre e il figlio è lo spirito santo c'è amore solo dove c'è comunione ma pur essendo in tre persone vi è un unico dio poiché l'amore unisce in dio l'amore è così perfetto che di tre persone c'è un solo dio il padre è dio il figlio è dio lo spirito santo è dio e insieme non formano tre divinità ma l'unico dio il mistero della santissima trinità si riflette in modo particolare nell'uomo creato ad immagine e somiglianza di dio tra le creature visibili l'uomo e la donna sono le più perfette quelle che maggiormente rivelano il mistero di questa comunione divina inoltre quanto più uno ama quanto più uno è santo tanto più conosce dio e lo fa conoscere al mondo la famiglia umana è chiamata alla santità proprio perché è chiamata a riflettere il mistero di dio più persone unite dall'amore formano un'unica famiglia e devono aiutarsi vicendevolmente ad amare e a servire il loro creatore sganciata ed emancipata da dio la famiglia perde molto del suo valore e viene meno alla sua vocazione il beato carlo ultimo imperatore d'austria il giorno del suo fidanzamento disse alla sua promessa sposa che da quel momento in poi si dovevano aiutare reciprocamente ad andare in paradiso e alcuni anni dopo affermò che avrebbe preferito che il signore prendesse con sé i suoi figli piuttosto che essi commettessero un solo peccato mortale dio è amore infinito e tale amore liberamente si vuole riversare sulle creature innanzitutto sull'uomo il quale per il peccato si era separato dal suo creatore per questo motivo il vangelo di oggi riporta il mandato di gesù agli apostoli di ammaestrare tutte le genti e di battezzarle nel nome della santissima trinità andate dunque fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo punto il battesimo ci rende figli di dio e templi della santissima trinità lungo i secoli la chiesa obbedito a questo comando del signore si è sempre impegnata nell'opera missionaria affinché tutti i popoli conoscano l'unico vero dio in tre persone uguali e distinte l'opera missionaria non consiste solo nell'andare incontro alle sofferenze ai disagi umani ma si propone innanzitutto di insegnare le verità che sono via al cielo prima di tutto il mistero della santissima trinità e di battezzare tutte le genti che siamo figli di dio lo attesta san paolo nella seconda lettura di oggi voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi per mezzo del quale gridiamo abbà padre punto consapevoli di questa altissima dignità sforziamoci ogni giorno di vivere come veri cristiani fedeli all'insegnamento del vangelo custodendo la presenza di dio in noi come il bene più prezioso più prezioso della nostra stessa vita